Grazie Buongiorno, ben sbagliati, ci siamo, grazie a tutti per la partecipazione Allora, la croce rossa è già sparita, perché hai detto che questa è una postazione pericolosa Non hanno i tappi, quindi di conseguenza non possono stare vicino Allora, la partenza è confermata alle ore 10 L'arrivo è programmato verso stasera alle 10 Quindi avete tutto il tempo possibile per correre Non dovete avere paura E la petta è andata all'autunno Un'autunno che oggi è un po' primavera Comunque, meglio così che il giorno che dovevamo fare ufficialmente Quindi, allora dovevamo portare le biciclette e dovevamo prendere i canotti Invece oggi possiamo prendere tranquillamente le biciclette Io volevo ringraziare un po' tutti quelli che mi permettono che si effettuino questa corsa La famiglia battaglia Che tutti gli anni Ci invita alle sue cose Sono diventato serio perché avrei bisogno di un momentino della vostra attenzione La vostra attenzione perché volevo ricordare una persona che è sempre stata l'anima delle nostre cose La signora Flora La ringraziamo tutti E vorrei un grosso applauso da chi la conosce e non la conosce Io dico di loro Che sono un gran chiacchierore Ma in queste occasioni non ho parole per ringraziare questa signora Che è sempre stata l'anima delle corse di battaglia Grazie Flora Ti ricorderemo sempre Un nuovamente grazie e un applauso se lo desiderate Grazie